Samurai, vi prego, ho un messaggio per voi. Cosa c'è? Un demone mi ucciderà se non vi narro la sua storia. Non ho tempo da perdere. I demoni sono leggende. Questo no. Si chiama Kojiro ed è immortale. Molti anni fa, Kojiro era un cappello di paglia. Così terribile, letale e assetato di sangue, che i suoi fratelli gli si ritorsero contro. Dall'aurora al crepuscolo, decine di cappelli di paglia lottarono contro Kojiro. Lui li trucidò tutti. I cappelli di paglia, che sopravvissero a quel giorno, rinnegarono Kojiro. E non lo incontrarono mai più. Gli spiriti della morte rimasero così stupiti da Kojiro che benedissero la sua armatura per garantirgli forza infinita. Ora non è solo un uomo. È un assassino leggendario. Quando i cappelli di paglia tradirono la nostra gente e si unirono ai mongoli, accolsero di nuovo Kojiro a braccia aperte. Cinque assassini tra i cappelli di paglia si sono uniti a Kojiro e hanno giurato di uccidervi. Kojiro vuole dirmi che mi sta cercando. Starò allerta. Non c'è bisogno. Kojiro vi concederà l'onore di un duello. Ma prima dovrete battervi con cinque cappelli di paglia che lo servono. Bastardo arrogante. Dove sono? Vi aspettano in questa regione. Si assicurerà che li troviate. Vi accogiro che ho ricevuto il messaggio e che accetto la sfida. È una sfida che solo voi potete affrontare. Fate attenzione. Ti conoscere. Ti conoscere. Ti conoscere. Ti conoscere. Puoi mette la sfida. Grazie. Per Ryuzo eravate il più grande spadaccino mai conosciuto. Dovevo accertarmene. Ti converrebbe credergli sulla parola. Mi alleno con la spada da quando ero in fascia. Siete l'unico che può offrirmi una sfida. Siete l'unico che può offrirmi una sfida. Siete l'unico che può offrirmi una sfida. Non è una novità. Siete l'unico che può offrirmi una sfida. Siete l'unico che può offrirmi una sfida. Ti sei battuto bene, ma abbiamo finito. Sapevo che mi avresti trovato, Sakai. Vattene, ragazzo. I cappelli di paglia sono dei traditori. Meritate la morte. E i samurai sono ipocriti viziati, che si prendono i meriti dei veri guerrieri come me. È così. Fatti sotto. Fatti sotto. Hai sempre vissuto in un castello. Ti sei rammollito. Allora perché hai il tempo? Allora perché hai il tempo? Addio, Ronin. Allora perché hai il tempo? È un onore incontrarti. Signore. Preparatevi al duello. Sono pronto quando volete. Non dobbiamo batterci. Ho promesso di affrontarvi. Sarò anche un Ronin, ma di parola. Come desideri. non dobbiamo batterci. Che assurdità. Arrenditi e avrai salva la vita. Grazie. Grazie, signore. A tevo rifiutare. Grazie. 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 questo momento. Sarebbero ancora vivi se tu fossi arrivato prima. Ora sono qui. Sì! Sarebbero ancora vivi. Sarebbero ancora vivi. Non ucciderai mai più! Devo affrontare l'uomo che mi ha messo contro questi Ronin. Il bardo alla baia di Omugi potrebbe sapere dov'è. Lord Sakai! Grazie agli dèi! I cappelli di paglia che volevano duellare sono morti. Kojiro lo sapeva già! Ve l'ho detto! Non è un uomo comune! L'hai rivisto? È tornato. Dice che meritate di morire per mano sua. Vi aspetta in una grotta al monastero di Omi. La terra del mio clan rimpiangerà questo insulto. Non lo affrontate. Con la sua armatura demoniaca non si stanca mai in battaglia. Questo lo vedremo. Pregherò per voi. La terra del mio clan rimpiangerà questo insulto. Pregherò per voi. Lord Sakai, finalmente Il bardo sostiene che la tua armatura è demoniaca, Kojiro Tu gli credi? Dovevi rimanere una leggenda Non è vero, non è vero Oh Ho ucciso mille uomini Ho assaporato ogni morte Ardo aveva ragione Sarai tu la persona che mi ucciderà È questo che vuoi 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 È questo che vuoi